gentili telespettatori buona giornata allerta nubi fragi arriva la tempesta equinoziale noziale da equinozio ma che è la tempesta equinoziale vediamo che e dove colpirà ci aspettano due giorni di intenso malpe non malpenso ma maltempo il malpenso era un mix tra malpensa e maltempo no un intenso maltempo neve sulle alpi venti forti onde fino a sei metri alla faccia del bicarbonato onde di sei metri da domenica però cambia tutto vediamo un po che cosa succede sulla penisola italica fra poco si chiude il mese di settembre con un maltempo un maltempo finale l'italia sta per entrare nel vivo della terza tempesta equinoziale una fase molto perturbata che come abbiamo visto già le dinamiche dell'atmosfera abbandonando le caratteristiche estive per accogliere quelle autunnali quindi giovedì 29 di settembre cioè oggi e venerdì 30 di settembre saranno due giornate con piogge molto forti con neve sulle alpi possibili nubi fragi e la dinamica che porterà questo peggioramento è chiara arrivano delle masse d'aria fredda di origine artica quindi dall'artico sprofonderanno verso il cuore del nord africa tra algeria e marocco interagendo con correnti che hanno caratteristiche diametralmente opposte ossia temperate e umide questo incontro tra gli artici e le temperature calde questo mix porterà maltempo soprattutto sul nord est dell'italia sardegna umbria e in generale su tutto il versante tirrenico della toscana fino alla calabria come spiegano gli esperti meteorologi su queste aree toscana calabria al versante tirrenico torna la possibilità di nubi fragi perché qui parliamo dei temporali autorigeneranti che cosa sono arriva l'aria artica che è fredda il mare è caldo sopra la media quando c'è l'incontro dell'aria fredda col mare caldo evapora il mare e alimenta il temporale che si autorigenera e persiste in quella zona senza andarsene via poi che cosa succede succede che il temporale smette quando questo fenomeno dell'evaporazione del mare a fronte di quest'aria fredda finisce quindi ci può durare anche delle delle ore con una pioggia costante intanto meteo diverso sulle zone adriatiche sulle altre regioni meridionali con clima asciutto seppur ventoso e tante nubi in cielo non cambierà molto neanche per venerdì con nuovi temporali e fenomeni intensi sulle zone tirreniche su gran parte del nord italia schiarite possibili solo sul nord ovest e sull'estremo sud in questa fase nevicherà in montagna a partire dai 1200 1500 metri e i venti saranno forti di libeccio con onde anche di sei metri di non di sei mesi ma di sei metri sul mar ligure ma dopo il fine settimana cambia tutto la differenza di temperatura tra nord europa e nord africa anche superiore ai 30 gradi fa sì che si attivino degli scambi meridiani di masse d'aria nel tentativo graduale di compensare lo squilibrio termico l'italia quest'anno è in mezzo a queste fasi di maltempo definite tempeste equinoziali quello del temporale che si autorigenera che sono dei fenomeni nuovi in italia con il mare che 5 6 gradi superiore alla sua temperatura media negli ultimi giorni abbiamo avuto già due tempeste equinoziali la prima tra il 15 e il 17 settembre la seconda tra il 24 e il 26 sempre di settembre in entrambi i casi il maltempo ha ricordato che nei giorni intorno all'equinozio avvengono molto spesso scambi di masse d'aria molto differenti tra loro il peggioramento però avrà vita breve già dal fine settimana tornerà il sole quasi ovunque a parte residui fenomeni all'estremo sud mentre domenica i cieli saranno in prevalenza sereni con una ripresa delle temperature massime sarà il preludio a quanto accadrà la settimana prossima quando è prevista un ottobrata in grande stile con clima mite e tempo stabile per almeno sette giorni nelle ultimissime ore però alcuni modelli vedono non modello numero 5 giuditta ma alcuni modelli vedono anche la possibilità di una minaccia da est che potrebbe minare il tentativo di espansione dell'anticiclone delle azzorre al momento però il borsino delle possibilità propende 60 a 40 a favore della prima ipotesi beh guardate l'ottobrata è realmente è un termine che si ascolta molto poco l'ottobrata che cos'è una scampagnata nel mese di ottobre tradizionale a roma meta i castelli ali castelli va bene quindi l'ottobrata è una scampagnata nel mese di ottobre quando fa ancora bel tempo ecco quindi quando nel meteo si parla dell'ottobrata significa proprio una ripresa del bel tempo un ultimo sprazzo di tardo di tarda estate gotica va bene insomma io vi ringrazio per avermi ascoltato vi auguro buon proseguimento di giornata ci vediamo tra una ventina di minuti per un altro video ricordatevi che c'è anche tele italia seconda rete dove trovate video di politica di notizie fai da te e poi c'è anche in cucina con carla dove ci sono video di cucina la cosa strana che non ho mai capito su tele italia ci sono io che parlo su tele italia seconda rete ci sono io che parlo perché su tele italia ci sono 214 mila iscritti mentre su tele italia seconda rete ce ne sono 18 mila come mai solo uno su 11 iscritti di tele italia si scrive in tele italia seconda rete è un mistero che ancora non ha una spiegazione logica cercherò di capirlo con degli studi delle analisi approfondite del 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 fenomeno del fenomeno perché questo è un vero e proprio fenomeno inspiegabile è quasi autorigenerante come i temporali grazie a tutti per avermi ascoltato e ci vediamo tra poco ricordatevi che poi questi video sono condivisi anche in facebook nella pagina che si chiama tele italia arrivederci a tutti e grazie grazie